Sì, diciamo che abbiamo già iniziato giovedì passato con la presentazione della Ruota d'Oro, una manifestazione importantissima nell'ambito del programma del perdono e quindi venerdì partirà il perdono vero. Quindi venerdì sera ci sarà l'inaugurazione di Val d'Arnespone e poi eseguiteremo fino a martedì con tutte le manifestazioni varie. Fra le quali la Fiera degli Uccelli, la Fiera di Bestiame, Val d'Arnespone appunto, la gara ciclistica, i fuochi artificiali come sempre. Diciamo che la Prologo ringrazia innanzitutto il presidente della Commissione di perdono che è qui vicino a me e quindi tutta la Commissione di perdono, la Commissione Fiera degli Uccelli, del Bestiame, tutti coloro insomma che si sono prestati a organizzare questa grande Kermesse che è il nostro perdono. Io mi auguro che come questi altri anni diciamo ci sia il sole perché quello che ci aiuta a portare avanti sicuramente un 80% dipende proprio se viene diciamo il tempo bello e quindi per il resto l'organizzazione mi sembra che sia stata augurata nei minimi particolari tutte le varie... Grazie a tutti.